Verrà chiuso il mercatino etnico nel sottopasso di via Ferrari a Pescara. Benché 31 commercianti hanno ottenuto titoli abilitativi e hanno pagato le tasse per l'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione pescarese intende impugnare la legge regionale del 31 luglio 2018, secondo cui il titolo abilitativo è dichiarato decaduto qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori a un mese in ciascun anno solare. Infatti nel periodo estivo sono state pochissime le bancarelle allestite. Alcuni commercianti, una volta chiuso il mercato, saranno spostati in dei posti disponibili nei tradizionali mercati rionali. Mentre in Comune sono tutti d'accordo sulla chiusura del punto vendita inaugurato appena quattro mesi fa e costato 250.000 euro di soldi pubblici, questione tra l'altro su cui si è accesa la campagna elettorale, le proposte su come riutilizzare il tunnel della stazione ferroviaria sono molte e discordanti. Il consigliere comunale, Fabrizio Rapposelli, propone di riaprire il passaggio al traffico oppure di stabilire un parcheggio per i camper. Il vice sindaco, Luigi Albore Mascia, invece aveva parlato di un museo del treno e l'assessore al commercio, Alfredo Cremonese, vorrebbe realizzare infine un deposito per l'affitto di bici e monopattini elettrici, proprio mentre impazza la polemica sull'omologazione e le richieste di ritiro dal mercato di questa tipologia di mezzi.